Ciao a tutti Sì, quest'oggi vi faccio vedere un prodotto nuovo, dipende ovviamente da quando guardate questo video Allora, tutti voi conoscete il Limpit Diffusion Camo, cioè quel particolare oggetto che sostituisce il LED core e praticamente scompare sul fondo Allora, è questo oggetto qui, ha già le asole costruite, sono fatti a mano, sono leggermente elastici e hanno notevoli vantaggi Come per esempio anche durante la fase di combattimento, l'elasticità permette anche un più facile combattimento In più il fatto che scompare letteralmente sul fondo, perché appunto i raggi solari riflessi sul fondo vengono catturati da questo tipo, da questo materiale e appunto scompare Come appunto, appunto diverse volte dico, però vabbè, non sono Jerry Scotti Appunto come queste foto qua Vi faccio vedere Oltre a questo prodotto, che non è una novità, abbiamo fatti degli altri Appunto quello lungo un metro e mezzo Eppure, oppure, con già le clip premontate Per esempio, la clip del safety bolt rig Del weed safety bolt, cioè con la clip un pochettino più corta Oppure con il cosiddetto run rig Oppure con l'helicopter rig Tutti nelle versioni da 0,75 o da un metro e mezzo Disponibile nei migliori negozi di Nash Ciao Ciao Ciao